L'opera di Gaetano Pesce a piazza Municipio continua a far discutere a distanza di giorni dalla sua inaugurazione e diventa sempre più una scultura attorno alla quale altri artisti vogliono cimentarsi. L'opera che piaccia o no è perfetta per la sua forma per richiamare un corteo di tipo baccanale a sfondo propiziatorio, le parole di Giada Torella che ieri assieme al gruppo musicale Parti Maniac ha organizzato una tamorriata. Domenico Fusco e Sergio Carleo alle chitarre, Mimmo Angrisani alla tamorra e appunto Giada Torella con voce Castagnette hanno riscosso un ottimo successo. Complice la bella giornata di domenica caratterizzata da un grande afflusso di turisti in città con i musei gratuiti e la maratona cittadina sono state decine le persone che incuriosite si sono avvicinate e hanno intonato la tamorriata nera con tanto di girotondo alla base dell'installazione.